Una iniziativa importante, ritrovo con piacere il Vespa Club che avevo patrocinato più di 11 anni fa nella prima edizione e quindi vedo che le edizioni sono andate avanti in questi anni, mi fa molto piacere perché comunque l'associazione promuove il nome della città in giro per l'Italia e allo stesso tempo invita gli altri club a partecipare a questo raduno che mette in mostra sicuramente le nostre bellezze seppur a fine stagione ma ormai settembre è considerata quasi alta stagione perché la stagione si è allungata negli ultimi anni quindi abbiamo delle condizioni meteorologiche che ci consentono di organizzare delle cose anche in settembre quindi sarà questo anche un tema magari dei prossimi anni, quindi ha fatto bene il Vespa Club a individuare questa data del primo settembre in cui ovviamente gli ospiti potranno godere delle bellezze della nostra città. Il Vespa Club Italia e il Vespa Club Fano prevedono due giorni, allora il programma è questo qui il 31 che sarebbe il sabato, il 31 agosto, ci ritroviamo in sede del Vespa Club Fano qui in via Monfalcone dove arrivano i Vespisti da fuori per l'accoglienza, è la giornata dell'accoglienza, il giornato della discussione e del programma sia dell'evento che poi prosegue la domenica, è un'accoglienza di discutere del mondo della Vespa perché il mondo della Vespa è un mondo che praticamente ti affascina la Vespa da dove la guardia, da tutte le 360 guardie è meravigliosa perché è nata in una maniera che dimostra l'Italia quanto ci ha messo l'anima per costruire un motore, un veicolo due ruote che è stato poi l'icona di tutta l'Italia in quei periodi del 49-50, avere la Vespa era un lusso, però era dovuto anche a tutta la media popolazione all'operaio, perché poi si prestava alla famiglia, poi è nata anche l'autovettura c'è stato praticamente tutta un'evoluzione la domenica invece noi alla mattina ci ritroviamo in via Largo Seneca dove praticamente logisticamente prepariamo il tutto per accogliere il Vespista che arriva alla domenica il programma prevede due partenze, due gruppi, praticamente uno rimane in Fano dove andremo a visitare le bellezze di Fano andiamo a vedere Trabucchi al porto e la Darsana Borghese che è una cosa meravigliosa dove rappresenta tutta la marineria fanese poi lì ci sarà un aperitivo per quelli che rimangono a fare il giro invece l'altro, il nocciolo, quello più importante che prevedo è il giro turistico andiamo a fare un percorso con tranquillità sulle colline fanesi però questa volta le facciamo al lato sud dove praticamente facendo la vallata di San Costanzo, Monteschiantello, Tombaccia è meraviglioso dove vediamo il mare di Torrette, il mare di Ponte Sasso e Fano poi da lì si scende, scendiamo e andiamo percorrendo gli interquartieri andiamo al museo della batteria che è situato a Bellocchi ci accoglie Daniele Carboni e ci dà anche la possibilità di suonare la batteria anche se io non sono capace però mi piacerebbe fare un po' di rumore invece il pranzo alle 1 ci ritroviamo alla cooperativa Tre Ponti e lì abbiamo un pranzo a base di pesce fanese con un nostro amico guido della sua diciamo marineretto che si chiama, il suo logo e di cui andiamo a prendere le cose migliori del pesce